Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Partiamo con la prima notizia, in Cina il coronavirus, primi tre casi in Europa e a Wuhan l'ospedale è stato costruito in soli dieci giorni da migliaia di operai cinesi che servirà per accogliere le persone che hanno contratto questo virus per il momento, semi sconosciuto. Ai confini della realtà sembra la fine del mondo, si legge sui social network cinesi, la lista di città coinvolte si allunga, chiusa la città proibita a Chicago, secondo caso accertato di malato americano. Passiamo a Cuneo, la scritta in tedesco qui ebrei sulla porta dell'ex partigiana deportata a Mondovì, lo sfregio alla staffetta partigiana Lidia Rolfi condanna unanime aperta un'inchiesta dalla magistratura. Passiamo a Taranto, palazzi in vendita ad un euro per salvare la città vecchia, il comune mette in vendita i primi tre palazzi a un prezzo simbolico nel borgo antico, un insieme di vicoli angusti con abitazioni pericolanti, quindi un euro con il vincolo poi di ristrutturare l'edificio. Passiamo, torniamo al governo, via libera all'abbassamento delle tasse da luglio fino a 600 euro in busta paga, quindi da luglio a dicembre ci saranno massimo 100 euro al mese di ritorno economico, cioè 100 euro in più in busta paga che sono 100 euro in meno pagate come tasse. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al trattamento integrativo, sarà di 600 euro al mese per i lavoratori dipendenti con un reddito da 8.000 euro a 26.600, lì è sempre 100 euro al mese, mentre tra 26.600 e 40.000 lì gli 100 euro cominceranno a scendere fino ad azzerarsi completamente per chi guadagna 40.000 euro e oltre. Il delitto di Luca Sacchi è stato e fu premeditato. Subito a processo anche Anastasia, disposto il giudizio per 6 persone, la 25enne Ucraina, accusata di detenzione e spaccio. In chat chiedeva Luca, ti sembro Dottor Jekyll e Mr. Hyde? Passiamo a un'altra notizia, Vercelli, il magnate dell'Eternit di nuovo a processo e dice odio gli italiani, è un paese fallito. Il processo a Schmidney si aprirà il 27 novembre, dovrà rispondere di omicidio volontario per la morte di 392 persone. Abbastanza sulla coscienza. Passiamo a un'altra notizia di politica, il retroscena. Nel Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ringrazia Di Maio. Ma era contrario all'addio, il fondatore del Movimento interviene dopo 48 ore di silenzio sulle dimissioni del capo politico e del ministro degli esteri. Primi malumori contro il reggente Vito Crimi. Passiamo ad un'altra notizia. Gelaterie Grom chiuse, Unilever dice era necessario ma apriremo nuovi negozi. Il general manager di Grom, Sara Panza, dice stiamo riposizionando il marchio, rivisitando alcuni punti vendita. Passiamo a un'altra notizia, IMS, in arrivo la carta d'identità elettronica per accedere ai servizi online. Si potrà utilizzare per consultare il portale dei pagamenti, verificare la posizione previdenziale, consultare il cedolino delle pensioni, garantito il massimo livello di sicurezza. Passiamo ad un'altra notizia, siamo in periferia di Milano, case, uffici e un megaparco. Così rinascono le ex acciaieri e falc a Sesto. I primi abitanti arriveranno nel 2025. Investimento da 4 miliardi per il colosso americano Ines con il gestore di fondi italiano Preglio. Primo lotto da 500 milioni, finanziato da Intesa San Paolo per case e uffici ad affitti accessibili. Ritorniamo alla politica, siamo a Palazzo Chigi, che è la sede della Presidenza del Consiglio, dove ha gli uffici. Giuseppe Conte, aumenti di 270 euro al mese per i dipendenti. Il rinnovo contrattuale porterà ai 2.000 dipendenti, 125 euro in più, più 3,48%, ai quali si aggiungono le risorse estanziate dal governo, Conte, pari a 5 milioni di euro. Quindi un aumento che non era sufficiente, 125 euro, Conte gli ha messo altri 5 milioni di euro dalla finanziaria. Poi ci si chiede cosa facciano 2.000 persone in un palazzo alla Presidenza del Consiglio. Questa è una domanda che probabilmente non avrà nessuna risposta, anche perché lì non è una fabbrica che si produce, sono 2.000 impiegati, il numero di una grande multinazionale. Quindi rimaniamo con questo dubbio. Passiamo in Turchia, forte scossa di terremoto a Malatia, almeno 14 morti. L'epicentro è stato posizionato presso Doganiol, una località a circa 80 km di distanza dalla città di Malatia, un centro di oltre 400.000 abitanti. L'intensità del terremoto è stata di 6,7. passiamo ad un'altra notizia, Craxi divide ancora gli italiani, tra i leghisti prevale chi lo apprezza. Il sondaggio Ipsos è il leader socialista condannato dal 63% della base dei 5 stelle, maggiori i contro anche tra i democratici. Passiamo ad un'altra notizia, in Piemonte maestra d'asilo trovata morta in casa, aveva ferite alla testa. L'allarme dato dal marito, l'uomo e gli amici della donna sono stati interrogati. Passiamo a una sentenza, assolto l'oste di Lodi che uccise un ladro. Il PM aveva chiesto tre anni. Mario Cattaneo all'alba del 10 marzo 2017 uccise con un proiettile alla schiena un romeno di 32 anni entrato nel suo locale con alcuni complici. Passiamo un'altra notizia, crisi in Libia e Dazi. Il doppio appello di Mattarella a Pence serve il peso degli Stati Uniti per la tregua a Tripoli. Il vice di Trump vede anche il Papa. Il capo dello Stato italiano dice i Dazi sono strumento che indeboliscono la Nato. La sentenza, due anni all'ex ministro Scaiola per la latitanza di Matacena, sospensione condizionale per l'attuale sindaco di Imperia, caduta all'aggravante mafiosa nel caso dell'aiuto alla latitanza dell'ex parlamentare di Forza Italia. Passiamo ad un'altra notizia. Il cane la pesca le ultime ore di Simone, poi gli sms, la faccio finita, inviato ai familiari. Un operaio che appena licenziato si è impiccato dopo due ore ad un albero. Passiamo ad un'altra notizia. La multinazionale del food delivery, Fodora, la Cassazione boccia. Il ricorso ai rider devono essere gli date le tutele del lavoro subordinato. Il ricorso della multinazionale respinto ai fattorini deve essere riconosciuto il contratto della logistica. Passiamo ad un'altra notizia. A Berlino attivista fa il dito medio a Erdogan. La scorta lo attacca. Durante la visita nella capitale tedesca l'aggressione dei bodyguard del presidente turco ad un giovane contestatore. Passiamo ad un'altra notizia. Giornali online senza licenze. Indagato il manager di data stampa. Violazione del diritto d'autore. Indagato il presidente del consiglio di amministrazione, Massimo Scambelluri. Passiamo ad un'altra notizia. L'omicidio di Giulio Reggeni. Cosa sappiamo? Quattro anni dopo. Il ricercatore italiano venne sequestrato e ucciso al Cairo. Dall'inchiesta l'unica certezza che emerge è il coinvolgimento delle autorità di sicurezza locali, cioè i servizi segreti. Passiamo ad un'altra notizia. Morte di Raffaele Ielpo in cantiere nella metropolitana 4. Indagate otto persone per omicidio colposo. Tra gli indagati il datore di lavoro, il capo e il direttore del cantiere, il capo squadra, il coordinatore della sicurezza, un progettista e responsabile delle opere di consolidamento. Passiamo a Malpensa. Grave incidente sulla superstrada. Incidente tra tre auto. Cinque feriti tra cui uno in coma. Un 76enne è stato portato al Niguarda in codice rosso. Gli altri feriti sono un 62enne e un 55enne entrambi con trauma toracico, una 36enne con traumi superficiali e un 36enne che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è assolutamente gratuita. Non comporta null'altro che un sostegno al canale per essere più visibile. Siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Nella community del canale ci sono parecchi messaggi, potete partecipare e commentare. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.